Usando una metafora sportiva, potremmo dire che siamo arrivati al rush finale. Dopo la drammatica tragedia della pandemia, siamo riusciti a raggiungere l'accordo per avere i soldi, abbiamo intrapreso le riforme che ci sono state chieste e superato tutte le tappe che erano necessarie per confermare i fondi e ottenere gli stanziamenti. Ora però dobbiamo riuscire a spendere bene e soprattutto concludere le opere in tempo. Lo si dice da anni. Per l'Italia, il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con oltre 200 miliardi di euro tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto, è davvero una grande opportunità per rilanciare il paese e provare anche a correggere inefficienze e arretratezze, ma è anche e soprattutto una corsa ad ostacoli. Per il nostro paese avere soldi ma faticare a spenderli sembra quasi un paradosso, ma è davvero così. Secondo le ultime stime sono in ritardo tre progetti su quattro e in molti casi appare impossibile riuscire a correggere in corsa la situazione per tagliare il nastro entro il 2026. Colpa della burocrazia, si dice in questi casi. Qualcuno punta il dito sugli amministratori locali ai quali dicono i critici se è dato troppo potere nella gestione dei dossier e altri invece tirano in ballo funzionari e dipendenti pubblici. Di certo questa corsa contro il tempo per presentare progetti da finanziare e realizzare ha messo in evidenza limiti e lacune della pubblica amministrazione, sotto organico ma anche priva spesso di figure specializzate per progettare opere e interventi che vadano oltre la routine dell'ordinaria amministrazione e poi ovviamente ci sono i soliti ritardi e le solite inefficienze all'italiana, un mix di problemi che rischia di costarci molto caro.